Quanto a quell'umacone di Peo, sta sempre in caccia. Eila, com'è la situazione qui? Sai, sono stato un po' in America e ho perso di vista la politica interna. Sai cosa ti dico? La donna americana è stata una vera delusione. Per me che ho viaggiato in tutto il mondo, le italiane non hanno rivali. E' vero o no? What? Come what? I'm coming from Boston, America. Io viaggio with the school. Ah, viaggi con la scuola. Allora hai bisogno di qualcuno che ti dia le dritte. Perché vedi, all'estero, se non incontri la persona giusta, non ti diverti. Ma tu hai fatto 13, perché hai incontrato Peo. Peo. Ok, do you want to dance? Yes. Felice. Per beccare l'americana, bisogna giocare in casa. Come on! Allora hai bisogno di chiudelle. Puoi ofas la vuole. Hai fronte in chiude. Cuo tu di alles. Puoi di chiude. Sanno libbi. Come on, no. Puoi. Puoi di chiude. Puoi di chiude. Puoi. Puoi di chiude. Puoi di chiude. Grazie a tutti. Grazie a tutti.